Ciao Lolotti, oggi sono al porto di Osaka perché vado all'acquario e poi la ruota panoramica che vi ho visto adesso quello laggiù è l'acquario e questa ragazzi è la ruota panoramica sono messo più tempo nel previsto ad arrivare all'acquario c'è anche la nave della Santa Maria figo eh? wow adesso entrerò nell'acquario non so se posso fare i video però, boh, vogliamo grazie a tutti 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 avete visto anche i pesci vi salutano dall'acquario di Osaka e spero che il video vi sia piaciuto per ovvie ragioni come avete visto ho dovuto velocizzare i contenuti perché se lasciamo tutto intero e se lasciamo tutti i video che ho fatto andava più di mezz'ora quindi devo evitare e per via di tanti bambini perché eravamo ancora a periodo di festa ho dovuto come si dice togliere il suono e così è venuto questo video bene per oggi è tutto se avete domande scrivetemi pure e se no a un prossimo video ciao